Siamo qui a Trebbiantico come ogni anno per ricordare un giorno importante della nostra storia, una storia che deve essere assolutamente ricordata e non oscurata come è successo per tantissimo tempo. Noi siamo qui, quest'anno ci saremo sempre perché merita questo cippo, questo ricordo di questo giorno molto particolare, molto importante per noi. E come sempre, come Fratelli d'Italia, siamo qui a onorare i caduti, a onorare queste persone che avevano solamente una colpa, avere la colpa di essere italiani. Siamo qui per celebrare il giorno del ricordo, il ricordo legato alla tragedia degli istriano Giuliano Dalmati, che dopo la guerra, a guerra finita, vennero trucidati e gli venne tolto ogni cosa. Questo perché volevano restare italiani. Dopo tanti anni di oblio, finalmente, qualche anno fa, venne istituito il giorno del ricordo. Ecco, questa tragedia non deve essere dimenticata perché non avvengano più cose del genere. Quindi noi ogni anno celebriamo questa giornata che è sentita da tutti noi perché è rivolta a fratelli italiani che hanno perso tutto, che sono stati uccisi, trucidati, buttati nelle foibe. Si parla di 30.000 infoibati e di 350.000 persone alle quali sono stati tolti tutti i loro veri. Sono venuti qua in Italia e sono stati accolti anche in maniera, a dire poco, malevola. Cioè, sono stati insultati, sono stati chiamati fascisti quando volevano essere soltanto italiani, vogliamo mantenere le loro radici e per questo che noi siamo qui a celebrare, a ricordare e a commemorare queste persone.